Ciao a tutti ragazzi qui Alec e oggi siamo qui per il terzo episodio delle Bad Wars, sempre in compagnia del Mr.Ferrix, Motherfucker, e... Ma non c'è la testa di Batman in mano? La testa di Batman in mano? Chi? Tu? Eh. Non te vedo. Dov'è? Sì, tra te. Ah, ecco, di modo che vedo. Lol. Sì, c'hai una testa in mano del Batman? Sì. Perché come fai? Ah, perché io pure ho la testa mia, lol. Ok, a parte sta cosa ragazzi, perché non avete visto le episodio precedenti, li trovate nell'homepage del canale, tra le playlist, cioè la playlist delle Bad Wars, l'ho fatta, quindi andate a vedere le... Le episodio precedenti diciamo che abbiamo sempre perso, cerchiamo di vincermi qualcuna. E per chi non lo sapesse è l'E-Pixel, comunque, sì, andiamo, andiamo in lobby, come si faceva? Com'è la situazione della diamante? Che ne so, sì, io non c'ho le spalle, diamanti. Ecco, sono arrivato mo'. Non c'è sta ancora nessuno. No, i bianchi, i bianchi, andrei nel letto nostro. Ma dove stanno? Sta, sta a fare... Vedi che quello sta a venire. Aspettiamo che la spada. Vedete? Sto a prendere la spada io, oh? C'è sto, c'è sto. Quello sì, mi sta a dare le spalle, sì, sì. Anfa, me. State cazzo da un bianco, figlio di puttana. Vado a ripiare diamanti, vorrei controllare il bianco. C'ho tre diamanti io in mano, eh. Posali. Eh, poso che? Che questo sta qua. Ma questo che fa? Campera qui tutto il tempo. Ah, vai, Campera, prendi l'oro, prendi lo smeraldo, prendi tutto, ci... Se ne sta a nà, se ne sta a nà, gli ha affatto a nà. Sì, ma tocca controllarlo a quello. Quello tocca controllarlo perché è un fio di troia. E riviene qui, guarda, lo riviene qui, oh. Che è sta roba? Oh, fai gli dieci. Che stile. Ma aspetta che... L'articolo del diamantozzi. Ah, li sto colpì, li sto colpì. Vai, 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 li sto colpì. E mi devi... Che costano oro, eh? Eh, ma fammene altre. Eh, costano un botto d'oro, c'è i frecci, eh? Eh, lo so, ho capito. Finisci di far legno su... Sul coso, a parte che va bene pure così. Sti bianchi non si sa che stanno a fare, pensano solo a noi alla partita. La partita è tra noi bianchi, vabbè. Stanno a venire i gialli sul diamante? Ok, diamanti, zona tranquilla, non ce stanno a nessuno. E qua il bianco sta sempre là. Alza un muro, non si sa che merda sta a fare. Magari distruggono... Nessuno che si incula poi, capito? I green e i pink sono morti. E io ho il piatto delle smeraldi. Ok, è cascato di sotto il bianco, eh? Ho mannato di sotto tutta la roba. Ok, ho pure un iron golem. Insomma, cerco di darci un po' il letto qua. Andiamo in due, va. Per l'è l'arco? Sì. Guarda, io va. Andiamo in due a distrugge il letto, va. Sì, ma no in due C. Sennò poi i bianchi si fioffano. No, tocca a scherzo. Ho buttato di sotto C. Con la spada. Piede di diamanti, piede di diamanti e torna. Non c'ho niente di grosso addosso. Eh, ma lui c'è morto con tutta la roba. Mi serve nei frecce, i bianchi si stanno riaffacciati e ora si stanno pure i gialli. Ok, difende su tutti i fronti, eh? Ah, coglione bianco! Ti cecchino! Mudo devi stare, cazzo. Guarda, il bianco... Il bianco non c'è un cazzo da fare tutta la partita. Noi come stiamo messi, cara, roba? Ma sono solo sharp e ne stiamo preso. No, no, abbiamo pure la protezione. Eh, ma io non c'ho armatura, eh. Eh, manco io, torno a fare smeraldi. Andrè, sta arrivare giallo, sta arrivare giallo, sta arrivare giallo. Sto arrivare, sto a piena spada. Che gli faccio? Gli sparo? Dove sta il giallo? C'è il giallo, sì. Morto. Faccia di merda di un bianco. Sto a farlo giro a smeraldi, che sono quelli importanti per protezione adesso. Gli diamanti stanno più o meno a posto. Adrè, state cazzo, vattene, è giallo di merda. Se ne è nato delle diamanti, è il giallo, eh. No, sta arrivando, sta finita, sì. Che è finita, oh. Mi ha lasciato la base da sola. E mo' stanno arrivati bianchi. Ah, ma stai... Ah, no, ma sono i sigma, ma or... Dio, sono sti silverfish di merda che... Che sta però il bianco? C'è pure il giallo dietro. C'è il bianco sopra e il giallo dietro. Sto a tornare? Se sta il bianco sopra... Sopra... Cosa? Se sta il giallo e se sta a fare l'etro. Davanti, 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 davanti. Or qui... Andrè, ma perché te ne vai quando sto ai diamanti? Ma è questo qua sopra che ci ha distrutto la roba. Il bianco, che è dure che sta sta camperà. È dure. Oh, sta qua, ti ha il bianco, eh. No, vado di sotto, testa di cazzo. Quatt'ha affarmatura, che stanno smerati di entrare la cosa. T'ho posato i diamanti, ci sono 9 diamanti, eh. Però abbiamo rimedito i diamanti e ora facciamo pure l'altra protezione. È andato di sotto, è andato di sotto il bianco. Ah, c'è l'arco incantato pure, serve? Serve oro per l'arco incantato? No, serve, sì. No, no, sta arrivando qualcuno, c'è. Che so questi rumori. È il bianco, guarda, è il bianco che... Mi sa che ha ammazzato l'iron golem, quello tuo. Però è cascato di sotto. Il blu... No, come sono schiettati quasi tutti? Eh, guarda. Solo i white sono rimasti a finire. Sì, ragazzi, eccolo, 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 eccolo. E sta là, non riesco a prendere. Guarda. Vaffanculo, è imprendibile il bianco. Mortacci sua, oh. No, prendete l'arco. Io non mi prendo l'arco, quello da 24 gold. Eh, però, gli smeraldi prendiamo i spade. Dei diamanti, cioè. Eh, certo, quelle tocca a prendere. Quelle prendile, subito. Eccolo, va di sotto. Fa spavano i silverfish, te. Io ho da canarti con gli smeraldi. Eh, eh. Cioè, mi fai spavano la roba quando tu non ci stai a controllare se mi vengono ammazzate da dietro. È morto. Non c'è nessuno su quel ponte. Quanto ci metti ai silverfish? Quanto costano? Lo stanno un botto. Lo stanno 50 de ferro. Ping. Ma questi non hanno... Quei caracolosi bianchi non hanno fatto niente. Lo so, lo so. Stanno, stanno, stanno per cazzo dai inizio. Allora, l'ho ripreso. C'hanno solo roba de... Capito? Non c'hanno roba potenziata. Manco l'archi c'hanno. C2 se te mi ha fatto via un corpo. Ho spavano un silverfish qua fuori nel perimetro. Così magari, vedi, sta là al confine. 13 diamanti, me ne manca uno, vaffanculo. Eh, vabbè, i diamanti stanno lì. Chi cazzo? Già lì sono morti. Chi ti dice un cazzo? Inutile che ti vai a distruggire i lettici tra 4 e 5... Ai grigi stanno a farsi i bianchi, eh. Se stanno a muovere. Se stanno a muovere. Mo toccherebbe andare. Se stanno a farsi i bianchi, toccherebbe andare a farsi i grigi. È il letto degli grigi. Eh, vai. Eh, ma tocca andare a due. No, ma che due. T'ho messo l'uovo di guaglia. Fa lo spawn asta, là dentro. C'è già l'uovo. I bianchi già sono morti, carcola. Ecco là, in bianco. Perché mi sono preso l'arco quello incantato potente? Basta e botteci. Eh, c'è stesso bianco qua, ci. Lo stavo. Cazzo ne so, ci è morto. L'hai ammazzato. L'aeronmoco l'hai ammazzato. Solo che c'hanno il letto qui, stronzetti. Quindi. I grigi però c'hanno il letto, quindi tocca andare da loro, ci. Perché o aspettiamo? No, tocca aspettarli. Un po' rischia andrà da loro, ci. Però tocca camperasse qua. Sì, aspetta un attimo, devo fare l'arco, ci controlli che ne arrivano. Mo tocca controllare, perché quelli mo' siamo rimasti solo noi, eh. O sette smeraldi, che si può fare? Arco! Eh, a parte l'arco! Stanno arrivare, ci. Tocca andare più a letto, perché sennò c'hanno il vantaggio. Perché loro vanno venire qua quante volte gli pare. Eccoli ci. Eccoli. Guarda, vada di sotto, ho un fame. Sta a morire, ci. Se mi viene a dare una mano, ma dove cazzo stai? Ah sì, non mi faccio a dare una mano, ma pure io che muore. Loro fanno il letto. E sti cazzi, deve morirci, deve morirci, deve morirci, quel bastardo. Tu un tanto fallo morirci, poi riviene qua e mori. Vedi, ci sta ammazzati tutti l'iron golem, por... P***a, secondo me tocca andare... Tocca andare a distruggere il letto, secondo me. Ah, non ci potemo andare due, vedi loro che fanno? Eccoli qua, guarda. Emo sta arrivare a quell'altro. Non gli ho po' distruggere il letto, ci. Tocca a girare. Se passiamo dall'isola, loro ce l'avranno fatti dei punti, no? Devi far spanalare un golem, ci ce l'hanno ammazzati tutti l'iron golem. Eccolo, eccolo, eccolo ci. È morto? Mi dai retta, io vorrei andare a distruggere il letto. Passiamo da te qua. Vai, ci vai. E quello mi è spanato. Io, ma, un cecchino ci. T'ha ammazzato? Eh sì, un cecchino. Ma tu sto, mi dai retta, ma come fai andare a distruggere il letto che se li incontri lì? Se t'ammazzano loro c'hanno il vantaggio, come fai? E perché, come fai che vengono... Deve camperai, aspetta che gli si distrugge, punto. Ma, secondo me noci. Eh, infatti, guarda. Hai visto che hai fatto? Con quello lì che te guardava. Sei morto, come un coglione. Eh, non mi hai dato copertura. Copertura che? Quello che spara una freccia. Fa fai pippa ai cani, spara, yeh. Muori, coglione. Sta arrivando al punto dei bianchi. Ecco, ha fatto cascare sotto sto stronzo del merda. Poi camperà, cioè il vantaggio quello che lo rende e poi non si stanno a fare, ancora non si possono fare. Quindi vanno così e te due camperà che le frecce. E mo' sono rimasto da solo, ma è perdo. È normale. Un minuto e venti, vedi, l'avamo fatto. Te difendevi un attimo, poi senza letti ti fai davi qua dentro. Mo' come cazzo vinco? Vinco più io. No, sai, difatti, hai fatto la pozione di invisibilità e ne ha distrugge il letto. E il letto è un minuto e venti, non scivato a distrugge io. Allora, ammazza quello se gliela fai e fai la cosa che prendono coi diamanti. Morto. Dai diamanti, questa è una cosa che diventano tipo ciechi se entrano dentro casa nostra. Costa diamanti, costa tipo uno o due diamanti. Sta arrivà uno, sta sul ponte dei smeraldi. Ah sì, dimmi. Uno sta arrivato al ponte dei bianchi, ma non stanno tutte e due figli. Quello su dei smeraldi si sta a muovere, si sta a muovere insieme, si sta a arrivà. C'ho il golem, sì. Sta arrivà, sta arrivà. L'altro sta a far ponte. Ammazza il primo se gliela fai, sono tutte e due. Nooo, ho ammazzato uno e mi ha ammazzato l'altro. Porca troia. Vaffanculo. Vabbè, ma la so giocata. Vede così, se tu mi devi retta, animo attacci tua. Vabbè, ma la so giocata.